E' stata che parte. Gigi Buffon, il giorno dopo il sesto scudetto della Juve, che serata è stata, che giornata è stata una di ieri? È stata una serata sobria e sabauda, come siamo abituati a vivere qui a Torino e alla Juve, per cui è finita, è culminata con una pizza in famiglia, molto normale. Stamattina, con una mattinata libera, siamo venuti, vengo alla presentazione del libro di Vietti, perché abbiamo degli amici in comune, dei quali Vittorio Sgarbi, considerando che quando è possibile ci vediamo, la sede opportuna oggi era questa. Allora ti chiedo due parole, come definiresti Vittorio Sgarbi? Vittorio Sgarbi, penso che sia un uomo pregno di cultura, come gli dico sempre, al netto delle sue intemperanze avrebbe sempre e ha dei pensieri talmente originali, talmente veri e talmente lucidi, che con un altro tipo di carattere, secondo me, probabilmente avrebbe fatto una carriera sino a poter arrivare a diventare presidente del Consiglio. Questo è per il valore che ha e per come riesce a trasmettere, secondo me, le sue idee. Però probabilmente se avesse avuto un altro carattere non avrebbe fatto così presa sui giovani e sulla gente. Quindi genio e svegolatezza? Sì, sicuramente, però tanta, 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 secondo me, intelligenza e tanta cultura a servizio della gente, della cittadinanza. Grazie Gilles. Prego.